Preghiamo, fratelli carissimi, Dio onnipotente e misericordioso, perché conceda a questo nuovo eletto la richiesta della sua grazia per il bene della Chiesa. Grazie a tutti. A te, Padre, la gloria, la potenza e l'onore per Cristo con lo Spirito Santo nella Santa Chiesa che ti ha fatto partecipe del Sommo Sacerdozio di Cristo e fonda su di te la sua mistica unzione e con l'abbondanza della sua benedizione dia fecondità al tuo ministero. Riceve il Vangelo e annuncia la parola di Dio con grandezza d'animo e dottrina. Riceve l'anello segno di fedeltà e nell'integrità della fede e nella purezza della vita custodisce la Santa Chiesa, Sposa di Cristo. Riceve la mitra e risplenda in te il folgore della santità, perché quanto apparirà il Principe dei Pastori tu possa meritare l'incorruttibile colonna di gloria. Riceve il Pastorale, segno del tuo Ministero di Pastore. Abbi cura di tutto il Grece nel quale lo Spirito Santo ti hai posto come Vescovo a reggere la Chiesa di Dio. Grazie 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 Grazie